Poco fa la WWE ha già annunciato due ingressi di enorme peso e blasone nella Hall of Fame per quanto riguarda la classe del 2020. Innanzitutto la federazione ha reso noto che nella Sala della Gloria si siederà il New World Order, l'NWO, nel quartetto fondatore, rappresentato da Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall e X-Pack. Tutti e quattro, peraltro, sono già parte della Hall of Fame WWE. Hogan, Nash e Hall come singoli, X-Pack invece come membro della DX, centrato di recente. L'NWO, il New World Order, non ha bisogno di presentazioni, ma se non lo conoscete vi basti sapere che è stata una delle fazioni più importanti di qualche decade fa, quando c'era la guerra degli ascolti televisivi tra la WWE, che poi ha vinto, e la WCW, che poi ha perso, e sono stati in grado di cambiare e di spostare gli equilibri per parecchi anni. A brevissima distanza di tempo dal primo annuncio, ecco l'altra bomba. Tra i premiati, tra coloro che entreranno nella Sala della Gloria tra qualche mese, ci sarà infatti pure Batista, l'animale che si è sostanzialmente ritirato dalle scene dopo lo scontro con Triple H della scorsa Wrestlemania. Oggi Batista è un attore di buona fama, la cui reputazione si sta progressivamente innalzando, grazie a buone prove attoriali e anche all'ingresso in blockbuster di diffusione mondiale, come i Guardiani della Galassia o il futuro Dune. A questo punto, dinanzi a nomi così prestigiosi, così importanti, l'unica domanda che resta da porsi è chi sarà l'headliner, ovvero l'uomo simbolo della cerimonia? Sarà l'NWO? Sarà Batista? Qui sotto nei commenti ditemi chi selezionereste voi, a chi affidereste quell'onore e ovviamente spiegatemi anche il perché della vostra selezione.